Che cos'è l'intenzione? È lo stato d'anima in cui l'individuo manifesta segretamente il suo sentire. In genere, la vera essenza della sua stessa intenzione è sconosciuta all'uomo di media evoluzione. L'intenzione si esterna in un'azione quando, superata una certa soglia vibratoria, non resta più circoscritta nell'intimo dell'individuo e si irradia all'esterno divenendo azione. L'azione è perciò il vertice dell'intenzione nel piano fisico ed è energia irradiata da un piano più settile. Chi intuisce le intenzioni dei propri simili dimostra di avere una certa evoluzione.